bentornati a patchwork ciao da valentina oggi creeremo una wedding card con dei sottotorta come questi allora abbiamo bisogno di un cartoncino colorato e due sottotorta e del nastrino colorato prima di ogni cosa dobbiamo ripiegare su se stesso questo sottotorta in questo modo sul secondo sottotorta dobbiamo disegnare due cuori adesso ritagliamo il nostro cuore ritagliato il nostro cuore ne dobbiamo ridisegnare un altro sul bordo merlettato adesso incolliamo la parte merlettata sulla parte bianca e questo sarà il corpetto del nostro vestitino adesso tagliamo l'estremità di questo cuore allora adesso creiamo una piega sul sottotorta che abbiamo utilizzato per creare la gonna in questo modo e incolliamo le due parti adesso andiamo ad abbellire il nostro abitino con un nastro io ho scelto rosa uguale al bigliettino e adesso possiamo incollare il nostro abitino sul nostro biglietto questa è la nostra wedding card provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao